Buonasera amici di Campania Tubi, ci troviamo qui con la signorina organizzata questa bella festa insomma ho visto che avete fatto ballare tanta gente, divertire ci puoi spiegare insomma la vostra animazione e in cosa consiste? Beh, noi cerchiamo di accontentare un po' tutte le persone dalle persone un po' più, diciamo, dai 40 anni in su dalle persone giovani, dai ragazzi cerchiamo di fare il possibile per farli divertire E' la prima volta che partecipa a questa manifestazione? No, diciamo che abbiamo fatto parecchie manifestazioni con questa organizzazione, con Sonoppa e quindi siamo deciditi Ha degustato qualcosa? Sì, abbiamo mangiato la pasta, era buonissima infatti abbiamo fatto tantissimi complimenti allo stand di tutti quelli che hai vuoti, non ho lento Come ti è sembrata? Buona, la pasta è la buona, la festa è la buona E' più organizzata, diciamo La buona organizzazione, sì, tutto bene Sono stati bravi, non ho organizzato Facciamo un saluto agli amici di CampaniaTube? Un saluto agli amici di CampaniaTube?